La salute di Kate Middleton preoccupa la famiglia reale e tutto il mondo. Scopri gli ultimi aggiornamenti su questa situazione drammatica. Vi siete mai chiesti come la famiglia reale inglese stia affrontando la malattia di Kate Middleton? Ecco cosa sappiamo finora. Negli ultimi anni, Buckingham Palace ha attraversato numerosi momenti difficili. Iniziati con la morte della regina Elisabetta e aggravati dall'allontanamento di Harry e Meghan dalla corona. Ora, nuove preoccupazioni si concentrano sulla salute di Kate Middleton. Recentemente, sia il principe Carlo che Kate Middleton hanno ricevuto diagnosi di cancro. Nonostante gli sforzi della famiglia per fornire le migliori cure, le condizioni di Kate sono particolarmente preoccupanti. Nonostante un'operazione e l'inizio della chemioterapia, il cancro di Kate non sembra retrocedere come previsto. Antonio Caprarica, esperto della corona, ha espresso pubblicamente la sua preoccupazione per la situazione. Cosa ne pensate della situazione di Kate Middleton? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti. La notizia dell'assenza di Kate alla parata militare del 8 giugno ha ulteriormente allarmato il pubblico. Kate sta proseguendo il suo ciclo di chemioterapia in privato, lontano dagli occhi del mondo. Caprarica ha specificato che la malattia di Kate potrebbe essere stata individuata in uno stadio più avanzato di quanto si pensasse inizialmente. Le voci su un possibile ulteriore intervento dopo l'estate sono sempre più insistenti. Con la salute di Kate in bilico, il principe William si trova a gestire non solo i doveri reali, ma anche la cura dei loro figli. Non perderti nemmeno un momento. Abbonati ora per accedere subito a contenuti esclusivi che ti lasceranno a bocca aperta. In questa situazione critica potrebbe essere necessario il ritorno del fratello Harry. La famiglia reale sta affrontando una delle sfide più difficili degli ultimi anni. Tutti sperano in un miglioramento delle condizioni di Kate e nel sostegno reciproco tra i membri della famiglia. Questo è tutto per oggi. Grazie per averci seguito. Continuate a riflettere e a cercare la vostra verità. Alla prossima!